Ciao a tutti, ignora i miei messaggi ma è sui social. Prima di affrontare il tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco ed iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Tramasco nel quale trovi il link qua sotto. Allora, nell'info box, veniamo al tema. Allora, ci sono spesso molte donne che si lamentano Ah, lui è sempre sui social e ignora i miei messaggi però, ma è sempre sui social, è su Instagram, su Facebook, è su Whatsapp, è sempre online su Whatsapp allora chatterà, parlerà con altre donne e vanno a diventare asfissianti, rompipalle, iniziano a scrivere, iniziano a generare interesse e quindi, da questo punto di vista, quello che capita è che l'altra persona se ne va. Se ne va, si allontana, non c'è verso, non è possibile che una persona resti se tu, diciamo, la saturi di cose. Se lui non ti prende neanche in considerazione è perché pensa di avere un controllo totale della situazione e allora, prima cosa è non farti più sentire, non farti più sentire disponibile guarda, realizza tutto quello che hai trascurato pensando a lui, dedicando le energie e trova altri, cioè fai altro, dedica le tue energie ad altro, smetti di guardarlo sui social, smetti di seguire, smetti di stare lì a chiederti ma perché, ma come, smetti di fare l'ambulanza perché fare l'ambulanza non ti serve a niente, devi concentrarti su nuove possibilità adesso che sei, che hai tutto il tempo a disposizione, concettati su altre persone e vedrai che verrà fuori una situazione positiva, riuscirai a ottenere dei risultati ma se tu continuerai a inseguire non otterrai nessun risultato devi percepire la sensazione che ti sta perdendo veramente questo è quello che deve capitare se non capita questo non otterrai nessuna possibilità la cosa peggiore che puoi fare è quella di stare a inseguire è quella di stare, diciamo, diventare asfissiante diventare eccessiva invece se riuscirai a fargli percepire anche energeticamente il fatto che non sei più connessa e inizierai a frequentare anche soltanto sui social o comunque a interessarti veramente ad altre persone non per finta allora ti si aprirà un mondo ti si aprirà un mondo e vedrai che le cose cambieranno quindi ricapitolando lui pensa ad avere un controllo totale della situazione devi fargli percepire di non essere più disponibile pensa per caricarti di un po' di avversione a tutto quello che è trascurato per lui trova altre persone e smetti di guardarlo e di seguirlo sui social per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco e iscriviti al nuovo canale crescita personale con massimo terramasco nel quale trovi il link nell'info box ciao a tutti